La lotta alle cimici dei letti non è mai di semplice soluzione. Per chi volesse affrontarla con rimedi empirici, non farebbe altro che aumentare esponenzialmente il problema, spingendo gli insetti a trovare nuovi rifugi e quindi diventare sempre più numerosi. Ma Igen Control, con la sua esperienza ormai quarantennale, affronta il problema con la massima professionalità e assicura risultati ottimali nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Le cimici dei letti tendono a formare piccole colonie con decine di individui. Persino nelle prese di corrente, materassi, doghe, battiscopa e armadi, La lotta è infatti indirizzata in queste zone, utilizzando vapore secco-saturo a 180 gradi e sistemi complementari esclusivi Igen Control. Comunità, convitti, hotel, caserme, abitazioni, chiamate Igen Control per prevenire il problema con un programma di monitoraggio. Igen Control, via Paolo Veronese 126, Torino. Ciao a tutti! Grazie a tutti